I segretari generali di CGL Ciseguil di Lecce, Salvatore Arnesano, Antonio Nicolì e Salvatore Giannetto scrivono al presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, per illustrare la vicenda delle società partecipate e controllate della provincia, i cui lavoratori, a causa degli effetti della legge di riordino istituzionale e della legge di stabilità, vedono gravemente compromesso il loro futuro. Alba Service, Nuova Salento Energia, Fondazione Ico Tito Schipa, ciascuna con le proprie peculiarità, come sottolineano i sindacati, sono da tempo sottoposte a tagli economici che rischiano di sancirne la definitiva chiusura, oltre ad AXA, azienda privata, ma anch'essa vittima di queste dinamiche. In particolare Alba Service, che con oltre 130 dipendenti si occupa di assistenza sociale, pulizia di immobili, manutenzione stradale ed edilizia scolastica, ha visto in questi mesi ridurre i finanziamenti del socio unico ad un terzo, fino a poco più di 2 milioni di euro, appena sufficienti a garantire il pagamento con forte ritardo delle mensilità precedenti e fino al mese di maggio. E con la provincia che dichiara di non poter più assicurare ulteriori provvidenze, tanto che il 3 giugno scorso il dirigente preposto ha comunicato ufficialmente ad Alba Service la sospensione dei servizi di manutenzione edifici scolastici e di pulizia e uscerato. Appare evidente il rischio a cui si va incontro a fronte di una pur formale correttezza nella prassi adottata dalla provincia, in ordine alla sicurezza dei trasporti e dei cittadini, e ancora più grave rispetto alla sicurezza di alunni, studenti e personale scolastico. Non possiamo tacere, scrivono i sindacati, sul ruolo e le responsabilità del Governo e della Regione, che ad oggi ha quantomeno gestito con larghe omissioni l'intera partita del riordino istituzionale, soprattutto riguardo la mancata approvazione della legge regionale sulla attribuzione delle deleghe e delle relative coperture finanziarie. E nemmeno possiamo omettere su scelte aziendali che non hanno creato sviluppo e puntato all'efficienza. Va ricordato che nei giorni scorsi si era pensato di coinvolgere almeno una parte di questi lavoratori in alcune specifiche attività collegate alle recenti emergenze in agricoltura. L'ospicio è che si possa attuare questa possibilità attraverso un percorso condiviso con le parti sociali, individuando delle attività integrative e tutelando le professionalità specifiche del settore. Dal momento che le procedure di licenziamento collettivo incombono e che i servizi sono di fatto interrotti, i sindacati chiedono un tavolo di confronto immediato tra regione, provincia, azienda e sindacato per cercare di dare una soluzione positiva alla vicenda attraverso l'individuazione di nuove opportunità di finanziamenti volti ad assicurare il ripristino dei servizi e la tutela occupazionale.